Gentili telespettatori, buona giornata. Per quanto riguarda il centrodestra i nodi vengono al pettine perché mercoledì dovrebbe esserci, anzi è già stabilito, un vertice alla Camera dei Deputati per mediare. Quindi una riunione tra Salvini e Meloni, arriva anche Berlusconi che si è scommodato, esce da Villa Grande per andare alla Camera perché la Meloni ha chiesto un vertice in ufficio, non a casa di qualcuno, Berlusconi il più ricco, non a casa di Berlusconi a pranzo e cena, ma un vertice fatto negli uffici istituzionali, anche perché all'ultimo vertice, insomma, vertice fatto a casa di Berlusconi con lì la fidanzata che ascolta lì in mezzo, cioè non è neanche corretto, capito? Questo è proprio il fatto, se tu fai i vertici a casa di qualcuno, poi non è che gli puoi dire alla padrona di casa, tra virgolette, ah guarda scusa noi dobbiamo parlare, non è che ti puoi allontanare perché queste sono cose private, ecco, così se no Berlusconi si sdoppia, lui e la fidanzata sentono, poi si parlano e decidono insieme, quindi non è più Berlusconi ma è Berlusconi con la fidanzata che decidono. Allora, questo è il fatto, evitare di fare vertici a casa del più ricco, come sempre succede, è giusto, è corretto, in un ambiente istituzionale dove non c'è nessuno che è favorito, No, qua sei a casa mia, ti ho invitato io, insomma, capiste come funziona? Ecco, così mercoledì i tre leader si confronteranno sui dissie più divisivi, dice ma come? Devono andare alle elezioni, sono divisi? È certo che sono divisi. Devono capire come dividersi i candidati nei collegi? Come dividersi le poltrone? Perché già Berlusconi ha messo le mani avanti dicendo, eh beh, ma siamo tutti uguali, eh, tutti uguali che? Cioè uno ha il 24%, l'altro c'ha il 5%, allora ci dividiamo i ministeri in parti uguali perché siamo tutti uguali. Sì, siamo tutti uguali come uomini e donne, ma i partiti che vanno al governo non sono mica tutti uguali, se uno arriva col 24%, ovviamente deve avere più ministri di uno che arriva col 5%, lì il siamo tutti uguali non c'entra proprio niente. E quindi, insomma, il centrodestra loro sono sicuri di aver già vinto, già decidiamo il premier, vediamo il numero dei ministri, ma ci sono 60 giorni di campagna elettorale, insomma, non bisogna dare per scontato nulla, soprattutto perché i sondaggi sono abbastanza farlocchi, sui sondaggi non c'è da credere, sono sondaggi che propengono verso sinistra, quelli che propengono verso destra, quelli che propengono secondo quello che gli passa per la testa, i sondaggi non sono attendibili. E poi c'è lì un 40%, 44% di astensione. Ecco, non bisogna far fede ai sondaggi e dare per scontato è sbagliatissimo. Beh, insomma, poi l'ultima di Berlusconi e Salvini, facciamo decidere ai deputati chi sarà premier, questo è il massimo, no? Cioè, l'ultimo tentativo per cercare di togliere la premiership di Meloni, o almeno la candidatura a premier di Meloni, nel dire, beh, non lo decidiamo noi, facciamolo decidere ai parlamentari che abbiamo eletto. Cioè, pensate un po', no? Riuniscono i parlamentari, dice, dai, votate, chi volete come premier? Meloni, Salvini, Berlusconi, Tajani, Crosetto, Tremonti, Cipalippa? Ovviamente, ovviamente, i parlamentari di Lega e Forza Italia si uniscono, si mettono d'accordo prima, votiamo, non so, votiamo Tajani. Cioè, ma che strano, tutti d'accordo per Tajani e naturalmente magari quelli di Lega e Forza Italia magari hanno un numero maggiore e stabiliscono i parlamentari che Tajani deve fare il presidente. Cioè, capite quanto è ridicola questa cosa che vi ho appena raccontato? I due, Salvini e Berlusconi, vogliono impedire a Giorgio Meloni di fare il premier, come lo vuole impedire la sinistra, i giornali di sinistra, i poteri forti in Italia, i poteri forti in Europa, i poteri forti nel mondo. Naturalmente anche una parte della magistratura ci sarà, che molti stanno aspettando. Ma quando è che arriva sta magistratura che doveva tirar fuori delle cose, no? Anche la Meloni dice, tireranno fuori delle cose incredibili. Però a oggi, 25 luglio, non è arrivato ancora nulla. Però ci sono 60 giorni di tempo. Vedremo se davvero anche questa volta arriverà o magari è cambiata l'aria. Chi lo sa? È cambiato il vento. Non sarà facile per i tre mettersi d'accordo. Le posizioni restano diverse. Non è un mistero che a Berlusconi l'idea che basti un voto in più di un partito perché il suo leader si trasformi automaticamente in candidato premier non va giù. Non va giù perché lui c'è il 5%. Non va giù. Se lui aveva il 30% altro che se gli andava bene e poi gli è sempre andata bene fino adesso, oggi non va più bene. Invece la richiesta di Meloni è proprio questa. Pari dignità agli alleati, quindi pari trattamento. Se è sempre stato così, perché si dovrebbero cambiare le regole proprio adesso che la favorita al primato interno è lei? Matteo Salvini almeno ha parole a sostenere la posizione della Meloni, anche confidando in una rimonta della Lega. Sì, perché lui dice che la Lega sarà il primo partito. E ha tirato fuori tutti i temi identitari del Salvini al 35%, i decreti sicurezza, la flat tax, quota 100. Lui ha rispolverato tutto quello che fino adesso aveva tenuto parzialmente nascosto perché era col governo Draghi e queste cose non gliel'avrebbe fatte fare. Adesso ha tirato fuori tutti i temi, quei temi che portavano i voti di opinione. Perché Salvini si era riempito di voti fino al 35% a quelle europee del 2019 di maggio perché lui cavalcava questi temi alla grande ed era anche ministro dell'interno. Pertanto lui dice che se io riprendo questi temi con forza, oggi ha detto che al primo Consiglio dei Ministri si fa il nuovo decreto sicurezza. Bisognerà vedere chi è il Premier, se nel primo Consiglio dei Ministri vorrà fare il decreto sicurezza e se lo vorrà fare o non lo vorrà fare completamente. Però lui cerca di cavalcare questi temi dicendo che adesso vado a recuperare tutto l'elettorato ma passare dall'ultimo sondaggio oggi la Lega è scesa al 13,4%. Ecco, dal 13,4% arrivare a superare la Meloni in 60 giorni non è propriamente una passeggiata di salute anche perché l'elettorato deluso non torna più. Berlusconi pensa che davvero non si possa governare solo perché si è tenuto un voto in più, soprattutto se i partiti arriveranno vicini e se la figura di Meloni dovesse apparire come uno spauracchio sia per i moderati che per gli ambienti internazionali. Come se ne esce? Probabilmente con una mediazione. Non si indicherà già ora un candidato Premier anche se nei simboli di lista con ogni probabilità ciascuno metterà il nome del rispettivo leader. Si dirà che chi arriverà prima avrà diritto a dare indicazioni ma poi dopo le elezioni si faranno i conti veri ognuno con le proprie proposte come quella possibile da parte di Forza Italia e di Tajani gradito al PPE. E si vedrà se si arriverà a proporre un nome estero ad oggi ancora non ipotizzabile se si cercherà di coinvolgere i gruppi parlamentari o si applicherà la regola appunto del più votato. Beh ovviamente credo che la Meloni non accetti un'altra soluzione che non sia quella dove lei è Premier. Grazie a tutti e arrivederci.